Il mio forno a microonde, ce l'avevo e non sapevo, quanto ci potevo far, mi mancava qualche idea, e i segreti da imparare, finalmente un ricettario, che lo rende straordinario. Da oggi c'è Cucina a Microonde, mille ricette, consigli e segreti per scoprire il piacere di una cucina rapida e dei sapori naturali. Cucina a Microonde, già in edicola i primi due fascicoli, e in più partecipi al grande concorso Philips, è una creazione idea donna.